In varie parti d'Europa si è scelto un albero monumentale e si fa questa esecuzione che nasce da uno studio dei suoni presi, secondo delle tecnologie particolari, proprio dall'albero. Quindi l'albero in qualche modo ci regala i suoi suoni e poi vengono mixati e vengono uniti a dei suoni invece eseguiti ad archi da questo gruppo che si chiama Quartetto Faux. Gli alberi monumentali sono un patrimonio, prima di tutto, culturale e sono grandi e antichi alberi esattamente come gli alberi di cui sono fatti i nostri strumenti. Questi grandi alberi che sembrano fissi, che sembrano immobili, come può sembrare fissa e immobili la forma del Quartetto d'Archi, in realtà sono vivi e vitali e danno una vera e propria voce. L'idea di questo progetto è proprio di fare una musica che sia localizzata e suonabile solo in un posto, il posto legato all'albero che è stato in qualche modo musicato. L'albero che è stato scelto per questa prima nazionale è un albero vicino al confine fra Italia e Francia, in questo piccolo paese che è Moncinesio, che è uno dei tre paesi più piccoli d'Italia. Sono degli atti d'amore nei confronti di questi grandi giganti, di questi patriarchi che abbiamo il piacere ancora di custodire in giro per l'Italia.